Ancora una formazione cagliaritana sulla strada della Magnolia Campobasso. Stavolta il quintetto rosso-blu sarà ospite di un Cuscagliari in piena zona playoff e con un organico dalle rotazioni importanti. Il rosso-blu dal canto loro vogliono dare continuità all'affermazione ottenuta domenica contro la Virtus Cagliari, che ha messo in luce qualità e caratteristiche di rilievo per i fiori d'acciaio, che del resto all'andata dovette trovare conti con una gara complicata risolta solo nel secondo tempo. In vista dell'avvicinamento a questa contesa, tra l'altro così si è espressa la lunga crisantidum. Sicuramente contano tantissimo, anche se siamo prime, le prossime partite contano tantissimo, noi dobbiamo stare lì sempre e dobbiamo essere pronte e dobbiamo darcela tutta in campo. Siamo a Cuscagliari, sicuramente sarà una partita molto intensa, è importante, dobbiamo stare concentrati, dobbiamo lavorare tutta la settimana e dobbiamo essere pronte per affrontare questa battaglia.